Anticipare i tempi per trovarsi pronti con l'arrivo della bella stagione e favorire un rilancio nell'immediato almeno del settore turistico, in particolare nelle aree del Vallo di Diano e del Cilento, che in tema di turismo hanno ancora molto da dire e molto da dare. In questa direzione arriva la proposta di Giuseppe Verga, guida turistica campana, che chiede alla Regione di velocizzare le attività vaccinali, inserendo tra le priorità anche i residenti delle località che potrebbero rivelarsi meteambite per chi ha voglia di viaggiare, senza però allontanarsi dalla Regione, oppure per chi punti ad individuare aree tranquille dove può essere maggiormente garantito il distanziamento fisico. Un'ulteriore garanzia per chi ha voglia di viaggiare ma non vuole correre rischi per i contagi e la serenità di potersi recare in località dove tutti sono vaccinati. Questo, si legge nel blog di Guide Turistiche Campania, è il momento giusto per convincere i visitatori e operatori turistici a sceglierci rispetto ad altre località. Indispensabile è anche la campagna mediatica. È possibile fare meglio dell'anno scorso, quando i turisti italiani hanno preferito le nostre aree e i viaggi all'estero. Una strada da seguire c'è, continua Verga, soprattutto per il Vallo di Diano e il Cilento, zone in cui il distanziamento fisico è garantito dalle vaste aree in rapporto alla popolazione residente. Per Verga, la regione Campania, che detiene il potere in materia sanitaria, proseguendo nelle vaccinazioni come da piano, potrebbe prevedere l'avvio della vaccinazione di massa anche alle popolazioni di interesse turistico come Padula, Teggiano, Pertosa, Camerota, Centola, Roscigno ed altre, creando così, per l'estate, zone a basso rischio contagio che fungono da trattore per i vacanzieri estivi. In aiuto al progetto si potrebbe ipotizzare un accordo con gli operatori sanitari privati. Si potrebbe prendere esempio dalla Grecia, sottolinea Verga, dove si stanno immunizzando gli abitanti delle isole che sono state sfiorate dal Covid-19, con l'auspicio di evitarne la diffusione in vista dell'estate e scongiurando lo stop degli arrivi dei turisti e addirittura attivando dei corridoi di viaggio, soprattutto per gli inglesi e i tedeschi.